Grazie a tutti. Uno è un brano della campagna di Buenos Aires, che sarebbe la Milonga Campera o l'altra è la Milonga, la Milonga sia al posto dove si va a ballare il tango sia sempre un genere musicale. Questo si chiama Tana Milonga perché Tana è come chiamano gli italiani, in Argentina lo chiamano Tana. Tana Milonga, quindi... Tana, 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 o anche Tana Milonga. Tana Milonga, Tana, 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 Tana. grazie a tutti 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 grazie a tutti